Buongiorno a tutti, con il video di oggi riprendiamo la lettura e il commento del diario di Ugo Cavallero. Eravamo rimasti all'11 ottobre 1941 con una situazione sempre particolarmente complessa legata a difficoltà logistiche, a mala coordinazione e coordinamento tra forze armate, con una serie di insorgenze nelle relazioni sia interne dei comandi, delle filiere, delle girarchie militari, ma anche con i tedeschi, sempre con una certa difficoltà a valutare obiettivi, mezzi, strumenti, occasioni, prospettive, sostenibilità e insostenibilità di una guerra che ormai veramente è troppo ampia per le esigue forze italiane, ma diciamo che lo era anche per l'attacco alle Alpi occidentali o contro l'Epiro, quindi in qualche modo diciamo che le situazioni si vanno sempre più aggravando. Il 12 ottobre non è presente nella descrizione, o non è stato scritto nulla, o è stato omesso, e passiamo quindi al 13 ottobre 1941. Esamino con il tenente colonnello Montezemolo la possibilità o meno di avanzare verso l'Egitto senza investire Tobruk e le operazioni di sbarco, divisioni speciali, paragotisti, divisioni aviotrasportabile. Quindi qui emerge anche il problema con Rommel della consistenza, delle opportunità che si vanno a profilare nel tentativo di poter avanzare verso Oriente, verso il Nilo, verso Alessandria, verso Suez, però con questa grossa incognita rappresentata da Tobruk, con una sorta di spina nel fianco che sarà per ancora un bel po' un elemento ostruttivo per l'armata itano-tedesca. 14 ottobre. Con il tenente colonnello Montezemolo esamino i trattati per il rimpatio di 60.000 italiani, donne, bimbi e vecchi da gibuti. Occorre provvedere all'invio di petroliere in Atlantico per il rifornimento delle navi che li trasportano. Quindi sono due problemi messi insieme di non di poca facile risoluzione. Sappiamo che la situazione in Africa orientale è ormai finita, sostanzialmente finita. Quindi questo rimpatio di 60.000 italiani da gibuti, con una realtà particolare, gibuti con la sua condizione un po' al di fuori del tempo e dei spazi, con questa necessità di dover rimpatriarli, ma non si capisce bene come poter fare. Ricevo l'eccellenza Pricolo, ecco come emerge anche l'aspetto di difficoltà con l'aeronautica, argomenti, trasporti aerei per la Libia e scorte benzina a Tripoli, per rifornimenti agli aerei che trasportano le truppe. Faccio rilevare che abbiamo avuto e presentato alla superiore autorità a riguardo di questi trasporti dati erronei per tre volte consecutive. Non ci si capisce anche perché ci sono degli errori. Pricolo risponde che sono sorte e cause contingenti impreviste. A mia volta rilevo che in 15 giorni queste cause potevano essere venute a conoscenza, tanto più che siamo in guerra e i problemi devono essere risolti in tempo molto minore. Quindi anche una sorta di reprimende vicendevoli. Siamo stati per un mese in una illusione e che poi è caduta in due giorni. Partenza di un aereo per Gondar, avvenuta stamane, gruppo Machi 202 della Sicilia. Altri gruppi di approntamento, un gruppo Machi 200 per il 20 e un gruppo Machi 202 per il 27 del primo storm. Quindi anche una necessità di avere una serie di apparecchi idonei e nel tempo giusto. Pricolo propone di mandare i primi Machi 200 contrariamente alle intese che avevamo avuto. Anche qui rilevo che si tratta di un'altra intesa che viene modificata e manifesto il mio disappunto. Peccato che questo disappunto poi in qualche modo rimane un po' fino a se stesso perché Cavallero che è superiore di Pricolo in quanto Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ma al contempo sottosegretario all'Aeronautica quindi in sede governativa risponde solo a Mussolini e quindi è il grande problema delle doppie filiere. Sull'argomento redico il seguente appunto per il Duce. Ecco vediamo, si rivolge al Duce. Cosa gli dice? Eccellenza Pricolo mi ha rimesso stamane l'unito foglio col quale si giustifica di non poter mantenere l'impegno preso il giorno 11 corrente di organizzare un trasporto aereo per la Libia con una capacità di 1000 uomini in una giornata. La capacità che l'eccellenza Pricolo crede di poter ottenere è di 500 uomini in una giornata ma anche su questa cifra fa delle riserve. Ciò rappresenterà ad ogni modo una media giornalità di 200-250 uomini quindi che sarebbe un quarto o addirittura un quinto di quello che era previsto. Nel foglio si fa confusione tra le varie cause che possono incidere sulla continuità del trasporto. Vi sono cause contingenti di carattere imprevisto e su queste cause è perfettamente inteso che si debba far conto ma tutte le altre cause di carattere tecnico e non tecnico erano tutte note fin dall'inizio dello studio. Ho dovuto constatare che nello spazio di 25 giorni superaereo ha cambiato parere tre volte e non ho potuto consentire che il desiderio di riuscire asserito in piena buona fede da eccellenza Pricolo possa giustificare un simile metodo. Ho concluso dicendo all'eccellenza Pricolo che in tempo di guerra di fronte a situazioni che esigono pronta decisione non è consentito di sbagliare tre volte di seguito nella valutazione di un problema di manovra delle forze e dei mezzi la cui urgenza e responsabilità deve essere appena sottolineata. Quindi in qualche modo si fa sentire a Mussolini ma diciamo che Mussolini qua alla fine come si suol dire cerca sempre di trovare un accomodamento che non accomoda nessuno non soddisfa pienamente nessuno e non rende insoddisfatti allo stesso tempo tutti. 16 ottobre, quindi qui viene saltato il 15 è un po' come vedete frammentata, non si capisce per quale motivo comunque comunica al Duce che il convoglio in viaggio è arrivato il Bainsizza ha finito per andare a picco aveva a bordo materiali ma pochi uomini ora con i cacciatorpediniere porteremo in Africa tutti i tedeschi invio la seguente lettera al capo di stato maggiore aeronautica circa il servizio postale per Bengasi mi riferisco al vostro foglio numero 3 barra 15450 in data 15 corrente sta di fatto che il servizio postale con Bengasi è stato sospeso dal giorno 11 al 14 compreso prendo atto che detto servizio è stato ormai ripristinato mentre è stato regolarmente avviato il trasporto delle truppe ricevo però in questo momento comunicazione da super esercito che comando servizi aerei speciali ha sospeso per la giornata di oggi il trasporto delle truppe per trasportare 74 quintali di posta quindi anche un problema logistico della posta e dal 16 passiamo al 20 20 ottobre ricevo l'eccellenza apricolo argomenti una partenza per l'Africa settentrana italiana considerazioni varie sull'azione aereo navale del 27 settembre con particolare riguardo alla ricognizione trasporti aerei per la Libia considerazione sull'azione tedesca su Creta studio del piano 3C azione su Tobruk 3C è l'azione su Malta ricevo il generale Forrintelen faccio presente la questione degli indumenti invernali per i nostri in Russia e che per non far soffrire le truppe occorrerebbe dare corso sollecito a quanto venne già contrattato quindi abbiamo anche i problemi non solo sulla posta in Africa settentrana italiana ma anche gli indumenti invernali per la Russia 21 ottobre dirigo il seguente fonogramma al generale Apricolo una goccia cinese praticamente virgolette in relazione alla conversazione avuta vi prego di volere in occasione del vostro sopralluogo in Cirenaica esaminare anche la possibilità di un pronto rinforzo temporaneo della quinta squadra non solo per l'invio già in corso ma altresì per l'ariazione da bombardamento e ricognizione tutto ciò in rapporto alla prevista operazione su Tobruk finisce il virgolettato 12 nuovi sommergibili inglesi sembra siano stati destinati nel Mediterraneo a Malta è giunto il maresciallo dell'aria inglese 22 ottobre mi rego a conferire col Duce predispongo un appunto circa l'invio di nuove unità in Russia e già avendo il Duce espresso l'orientamento di inviare un nuovo unità sul fronte russo per la primavera 1142 il capo di stato maggiore generale ha esaminato la questione e al rapporto del 22 ottobre ha espresso al Duce le sequenze, considerazioni e proposte il capo di stato maggiore generale è sempre il cavallero virgolette l'invio di unità è subordinato due punti al completamento del programma di potenziamento dell'esercio previsto per la primavera 1142 ad una situazione di tranquillità sia nei Balcani sia alla frontiera occidentale ammessa quest'ultima ipotesi noi potremmo rendere disponibili sei divisioni al massimo sottraendole alle unità della frontiera occidentale e a quelle della riserva centrale queste unità potrebbero essere fornite con organici al completo di uomini e mezzi esse però non riceverebbero l'aliquota aggiuntiva di armi controcarri e contraeri fornite alle unità già inviate sul fronte russo non riceverebbero automezzi per il loro autotrasporto a tali automezzi dovrebbero provvedere le autorità germaniche quindi capite bene che il cavallero dice ammesso e non concesso che si possa ridurre le aliquote dei fronti già impegnati per il momento pacifici ma sappiamo come la realtà dei Balcani non è proprio pacifica e ammesso e non concesso che si possa in qualche modo provvedere alla questione del potenziamento dell'esercito per la prima del 42 li possiamo mandare però non hanno armi di accompagnamento sia controcarro che antiaereo e soprattutto non hanno gli automezzi quindi capite bene com'è si profila già proprio un po' un po' un po' un po' monca questo invio ulteriore 23 ottobre rinnovo al generale abricolo nella eventualità di una prossima offensiva in Cirenaica l'ordine di inviare un gruppo di caccia e l'approntamento di un gruppo di 1.007 a Brindisi esamino l'eventualità di un tentativo nemico su Pantelleria dal 23 passiamo subito al 26 ottobre si accentuano i sintomi di un attacco nemico in Africa settentrionale segnalato un afflusso di materiale nella zona del Delta e un continuo arrivo di aerei americani e inglesi in Egitto quindi sia assentore che meranio ci sia qualcosa che bolle in pentola mi rega a conferire col duce l'argomento principale sulla eventualità di uno sbarco inglese in Tunisia per agire sulla Tripolitania così sentore 27 ottobre ricevo l'eccellenza abricolo Pantelleria prego esaminare l'organizzazione difensiva sotto tutti gli aspetti successivamente prendo in esame le proposte contenute in una lettera di bricolo circa le modalità delle azioni aeree su Malta e rilevo che contrariamente alla mia direttiva trattasi di azioni più che altro di disturbo fatte alla spicciolata e diluite nel tempo invece Cavallero vuole qualcosa di più sostanziale di più robusto di più decisivo su Malta invece bricolo cose così un po' che lascia nel tempo che trova bricolo obietta che trattandosi di offese nemiche durante i viaggi di convoglie che essendo questi 5 al mese della durata di parecchi giorni ciascuno l'aviazione non può agire a massa questa è la giustificazione di bricolo faccio osservare che bisogna sempre tendere alla massa e che in sintesi l'obiettivo della massa stessa è quella di impedire le offese nel momento in cui i convogli attraversano il tratto più pericoloso e quindi che si tratta di una sola volta durante tutto il percorso di ciascun convoglio quindi la replica di Cavallero riceve il comandante della nave Roma Bianzino per i lavori della portaerei la parte navale è a posto imminente applicazione degli apparati motori da 160.000 HP cavalli motore come nave sarà a posto per il prossimo agosto quindi per l'agosto 42 è prevista la porta aerei mancano 9.000 tonnellate di lamiere che verranno fornite sollecitamente il dislocamento della nave è di circa 30.000 tonnellate la lunghezza del ponte sembra consenta anche l'atterraggio se no devono decollare e atterrano da un'altra parte 28 ottobre ricevo il genere Fassi e il tenente Lonello Montezemolo argomenti esame della costa tunisina in relazione alla possibilità di sbarchi provvidenze al confine tunisino necessità di una revisione schieramento delle forze francesi esclusione di possibilità di sbarchi a Zuara e a Sabatra 29 ottobre è stato intercettato un telegramma diretto da Berna al ministro degli esteri Jugoslava a Londra segnala che i serbi sono moralmente molto forti e combattono anche nel Montenegro le loro forze principali si trovano a Copanich sono circa 4.000 uomini altri 5.000 sarebbero a Omm e nei monti circostanze e 3.000 in altra località la lotta è stata organizzata e viene guidata da ufficiali che si erano nascosti nelle foreste con reparti di truppa quindi capite bene che non è proprio il massimo sguarnire i Balcani per mandare altre unità in realtà pietate e senza armi di accompagnamento per la Russia così 30 ottobre mi rego all'aeroporto di Ciampino ovvero l'eccellenza Apricolo mi presenta un gruppo di cacciamacchie in partenza per la Libia ricevo l'eccellenza Riccardi e l'eccellenza Apricolo argomenti legge sulle attribuzioni del capo di Stato Maggiore Generale con particolare riguardo ai rapporti con Fabri Guerra quindi diciamo che in questo momento non è il problema aeronautica e marina ma piuttosto Favagrossa con Fabri Guerra perché? perché c'è il problema dei rifornimenti delle commesse abbiamo visto che ci servono 9.000 tonnelli di ramiera per la nave Roma vabbè 31 ottobre ricevo il genere Forrintelen argomenti sui quali riferisce Forrintelen situazioni in Russia andamento delle operazioni nuova ferrovia per Leningrado imminente lettera del Führer al Duce concetti tedeschi circa la Croazia materie prime per la nostra industria bellica do le seguenti indicazioni invio di automezzi a Pantelleria invio di materiali di rafforzamento per Lampedusa mine reticolati carri leggeri esigenza C3 che è sempre un elemento importante studi e predisposizioni relative deficienze qualitative e quantitative della nostra ricognizione situazione nostro Naviglio da Carri le previsioni per la situazione di gennaio ordine del Duce circa la soppressione delle finiture non indispensabili per le navi sono cose superflue un po' come la milza la milza è un organo superfluo come diceva l'avvocato Vignacorelli a Oscar Pettila anche qui le finiture delle navi possono anche non essere messe navi di 2.500 tonnellate 60.000 tonnellate di naviglio necessità di accelerare le costruzioni e quindi necessità di avere prontamente un extra di materiale dalla Germania per questo scopo materie prime varie acciaio, carbone per fonde e rottami disponibili beh diciamo che se sotto l'aspetto operativo questa seconda parte del mese di ottobre del 41 non tocca troppo le operazioni quindi non è molto ricca di operazioni belliche tranne appunto qualche elemento timori per il Mediterraneo per la Libia attacchi inglesi ipotizzati sulla Tunisia o sulla zona della Libia orientale movimenti in qualche modo pericolosi nelle zone dei Balcani prospettive poi diciamo che i problemi sostanziali sono sempre interni quindi nella gestione di rapporti tra forze armate tra priorità di forze armate e tra priorità nell'utilizzo delle forze armate come elementi complementari l'aeronautica che vuole fare un po' una guerra di risparmio quantomeno non dà tutto quello che il cavallero chiede la marina pure lì diciamo si parla di naviglio di incostruzione si parla di prospettiva di fornimenti di collegamenti c'è il problema dell'Atlantico del recupero dei civili da gibuti il problema dei rifornimenti a livello terrestre della ricostruzione dell'implementazione del corpo di spedizione italiana russa che debba divenire un'armata e tutte queste questioni in cui si cerca di trovare in Mussolini una sorta di equilibratore ma ovviamente in questa circostanza sentiamo Cavallero che si lamenta tanto e però alla fine non è che trova una quadra su quello che per lui è prioritario cerca sempre di fare una politica un po' arrabboccata un po' del piccolo cabotaggio cercare in qualche modo di trovare dei piccoli compromessi che in qualche modo possano cercare di mandare avanti la baracca però sapendo che le risorse sono molto poche e le richieste sono troppe ecco sono troppo eccessive rispetto a quello che effettivamente si può fare quindi in qualche modo lui si aspetterebbe più altruismo però capite bene che l'altruismo in queste circostanze è sempre un elemento non solo non accettabile ma non accettato perché giustamente ognuno un po' guarda il suo orticello e dice ma in fin dei conti ma che ma che mi interessa andare a aiutare l'altro se poi non ho un corrispettivo in o in riconoscimento politico nella nell'economia stessa delle forze armate o di vantaggio tecnico operativo nell'utilizzo che viene fatto delle mie unità e dei miei mezzi questo è anche il discorso sulla Russia ma che ci interessa è tra le righe un po' non lo dice esplicitamente non si permettere mai anzi è lui che cavalca da un certo punto di vista l'invio ma per assecondare Mussolini lui non ce le manderebbe però in qualche modo cerca anche di di trovare una sua collocazione per pure lui vorrebbe accontentare tutti ma non riesce a accontentare tutti quindi il suo unico obiettivo è quello di scontentare il meno possibile ma ovviamente scontentare il meno possibile significa comunque scontentare tutti in media in media ma non vale qui ma al comune mezzo caudio parliamoci chiaro va bene allora per la prossima volta iniziamo col primo novembre 41 per anzi neanche il primo novembre il primo novembre c'è festa non lo scrive quindi in qualche modo il 2 novembre iniziamo con una situazione e vedremo un po' come va la questione detto questo come al solito invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao